Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Dunque, quest'oggi è una puntata su commissione. Questa sera, come noto, si disputa Italia-Spagna durante il campionato europeo di calcio. A questo proposito, come sempre, Forza Azzurri. Ecco, a proposito di questo dettaglio, l'azzurro della maglia, come vi ho anticipato, parleremo in un video successivo. E mi è stato chiesto appunto di parlare di alcune curiosità relativamente al nostro rivale, il Paese Iberico. E mi è venuto in mente qualcosa a proposito di un grandissimo personaggio della storia moderna, importante tanto per la Spagna quanto in generale per l'Europa e per il mondo, effettivamente. Stiamo parlando di Carlo V d'Asburgo, sacro romano imperatore germanico, grazie all'eredità di suo nonno, Massimiliano I d'Asburgo, imperatore. Stiamo parlando quindi dell'Europa centrale, per intenderci. Mentre per quanto riguarda l'eredità di sua madre, Juana la Loca, Giovanna la Pazza di Castiglia, invece era appunto re di Spagna. E sovrano di quell'enorme impero spagnolo che nasceva in quegli anni, tra la fine del 400 e i primi del 500. Carlo V è vissuto nella prima metà del 500. Per dire, fu incoronato imperatore nel 1530 a Bologna, non a Roma, perché Roma era stata devastata nel 1527 dalle sue armate durante il famoso sacco di Roma del maggio di quell'anno. Perché lui era in guerra con il Papa, il Papa era alleato dei suoi grandi nemici francesi e quindi appunto i suoi eserciti, formati in larga parte da luterani, erano calati su Roma e appunto l'avevano saccheggiato in un modo terrificante. Troppo c'era stata una rapacificazione tra il Papa e appunto, tra il papato e l'impero. Ma la popolazione romana non avrebbe mai accettato di vedere Carlo, per quanto molto cattolico personalmente, ma la politica è un'altra cosa, e appunto non avrebbe mai accettato di vederlo incoronato nella Roma che le sue armate avevano devastato in un modo inenarrabile, tanto che addirittura si parla di fine del Rinascimento con il sacco di Roma e quindi appunto il Papa si spostò nella sua seconda città, la seconda città dei suoi stati pontifici, cioè Bologna, e appunto Carlo fu l'incoronato. Ma torniamo appunto al discorso spagnolo. Ebbene, Carlo V era una persona molto particolare, tra l'altro appunto relativamente al suo impero, si dice, su di esso non calava mai il sole. È presto detto, aveva domini tanto nelle Americhe, quanto in Africa, quanto in piccola parte in Asia. E quindi appunto, oltre chiaramente agli estesissimi domini europei, e quindi appunto in qualsiasi punto del suo impero in un qualche momento c'era sempre il sole. Non calava, chiaramente, a differenza di fuso rari, eccetera. Ecco perché vi dicevo, è importante anche per il mondo, perché è lui, o meglio, i suoi conquistadores hanno preso il Messico, hanno preso il Perù, quindi abbiamo dovuto dire addio alle grandi civiltà azteca, inca, eccetera. E quindi appunto è un personaggio con un peso mondiale. Un personaggio particolare perché, proprio come curiosità personale, ho voluto fare una cosa un po' così random. Ebbene, ad esempio, nella vita privata Carlo mangiava, si diceva, proprio le fonti riportano, mangiava con la stessa meticolosità di chi gioca a scacchi. Quindi mangiava spesso da solo, in modo estremamente lento, preciso, perché lui meditava intanto. Era un uomo molto meditativo, tanto che addirittura, a un certo punto, si stancò di questa dura vita da imperatore, era stato assegnato da battaglie, da scontri, da un'intensissima attività politica per costruire e mantenere un impero così grande. E quindi appunto a un certo punto abdicò. Decise di lasciare a suo fratello, Ferdinando, i domini miteleuropei. Quindi appunto diede vita al ramo degli Asburgo-Austria, che si concluderà poi con Maria Teresa d'Asburgo alla metà del Settecento. E quindi appunto questi erano gli imperatori, gli imperatori d'Asburgo, Asburgo-Austria. E invece appunto con suo figlio, Filippo II, darà la vita al ramo degli Asburgo-Spagna, che si concluderà sempre ai primi del Settecento con Carlo II, del quale poi parleremo in un prossimo video, perché è un personaggio molto interessante, vi basti sapere che era chiamato Carlo lo Stregato, o Carlo il Maledetto, per motivi che appunto andremo poi ad approfondire più tardi. Dopo aver abdicato, Carlo si ritirò nel monastero delle Scorial, un grandissimo monastero, una sorta di reggia vicino a Madrid, dove appunto finì i suoi giorni, e beh, tra le altre cose, non solo in meditazione, in preghiera, ricordiamo il suo profondo cattolicesimo, e i suoi rimorsi comunque personali, ovviamente non politici, ma personali, per aver scatenato appunto quello che era poi il sacco di Roma. E ricordiamo comunque che alla fine lui non era presente, i suoi comandanti erano o assenti, o erano stati uccisi durante gli scontri, e quindi i soldati di Carlo erano senza un comandante, e quindi si riversarono come bande di briganti nella città eterna. Però appunto lui, tra il rimorso, la meditazione e la preghiera, beh, aveva un passatempo molto particolare, oltre a mangiare con una lentezza estenovante. Passava le giornate a fare le prove generali del suo funerale. Già questo è abbastanza bizzarro, no? Ma non solo, lui faceva solo da regista, proprio le prove si svolgevano con Carlo, sdraiato nella bara, proprio come dovrebbe essere, come doveva essere appunto durante le sue reali esequie. Bene, speriamo che la flemma di Carlo sia la flemma dei giocatori iberici di stasera, così da portarsi a casa l'ennesima vittoria. Porta tutti come sempre, ripeto, questa sera saremo tutti incolati davanti agli schermi. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e al prossimo video. Ciao!